A conclusione del progetto Conoscere il mare, promosso dalla Lega Navale italiana, gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Francesco Maria Mirapella di Alcamo, accompagnati dai professori Bonmarito, Cruciata, Giorlando, Grass, Milazzo e Randazzo, si sono recati questa mattina nella sede della sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale per assistere a una simulazione di salvataggio in mare, operato dai cani addestrati per questa importante funzione ed effettuata dalla SIX Tirreno, scuola italiana cani salvataggio. La SIX è nota come la più grande organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori e un'associazione di volontariato di protezione civile senza scopo di lucro. Il progetto Conoscere il mare, portato avanti dalla Lega Navale, ha coinvolto l'istituto comprensivo P3 di Castellammare, oltre che l'istituto comprensivo Alcamese Montessori di cui fa parte il plesso Mirabella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.